se te non mi potete mai fare valore io ci sogno ancora allora io mi sto interrogando su quesito stasera allora meravigliata Provost ho letto più volte su facebook che c'e gente che prende I cani dalla strada facciamo il nome del comune di Sant'Agata dei Bagnani l'ho detto comunque prendono i cani in passata e poi inseriscono gli ho detto una sciata in passata oh capivano io oh ecco si comunque se qualcuno sa qualcosa mi faccia sapere perché voi re di come lasciate in più una sciata in passata ma adottiamoli questi piccoli cani diamoli a delle famiglie che possono dargli uno stallo un qualcosa non c'è una famiglia a questi poveri cani un gentino dove correre dove stare in armonia con la propria famiglia cercare di trovare un alloggio no passata passata ora io dico una cosa no mi è accaduto pochi giorni fa abbattiati ci fu un piccolo cane la mascotte detta nella cittadina povero Rocky che ha detto di alcune sapeva ci avessava dalla strada mi ha avuto in seguito a ci avessare la strada vuoi chiudere io magari a pigliare il suo caffè magari a pigliare il suo giugnale caro si non ha capito un cazzo sto cane mi ha avuto in seguito a ci avessare la strada è un desteno ma si quindi non possiamo riprendere i cani prendere dalla strada e di buttarlo nella strada non aveva senso si va bene non sa proprio che ti sterilizzano ma non aveva senso eh che mio è un gioco di fare sensibilizzare a tutti i pari no che dica pensano che sti cani siano i rientrodotti mezza sciata vuolessi dire a tutti i pari a tutti a tutte di fare girare sto video per cercare di trovare una sistemazione degna che non sia il canile perché questi cani devono finire in mani giuste in famiglie che le vogliono bene cercare di prenderli dalla strada si sterilizzare ok ma non potete l'italia non ciò vado andassata che sensuare su un pericolo roky ha fatto una brutta fine ignorato da tutti e che cosa è successo un mistero un mistero quindi fate girare il video e mi raccomando un canale a tutti